bentornato nel video di oggi vediamo un brano in cinque quarti cioè che fa così 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 qui può essere considerato 3 più 2 o 2 più 3 quindi avere un accendo sul primo movimento sulla prima sul primo battito quindi 1 2 3 4 5 oppure 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 in ogni caso per suonare Mission Impossible un pretesto per suonare in tempi dispari un altro brano famoso è Take 5 no E riff va così Ovviamente puoi usare il plettro no 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Questo è un ottimo esercizio con dare e suonare si sviluppa qualcosa a livello ritmo 1 2 3 4 5 però facendo Quindi fai la vuoto terza corda quinta corda terzo tasto e quarta corda vuoto Allora E suonare E suonare E suonare D-minor l'ideale sarebbe puoi fare questa parte e continuare a fare io ti ringrazio per essere stato con me noi ci sentiamo al prossimo video un saluto dal Giambino ciao 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 ciao